Ho una laurea in economia dello sviluppo, ho lavorato per anni come ricercatrice e come insegnante di informatica. Di questi anni porto con me la passione per lo studio, il piacere della vita d'aula e soprattutto il ricordo delle persone con cui ho lavorato. Professionalmente credo che i miei pregi siano non avere pregiudizi, sapere ascoltare e voler condividere. Sul lavoro mi appaga poter dare il mio contributo, mi gratifica che venga chiesta la mia opinione, mi entusiasma fare cose nuove senza doverle improvvisare. Credo nell'importanza delle parole, quelle dette e quelle taciute. Alcune mi piacciono molto. Natura, rispetto, coerenza, famiglia, melodia, professionalità, solidarietà e viaggio. Ho studiato di paesi lontani, rammaricandomi di non poterci andare. Poi ho scoperto che ci sono molti modi di viaggiare in cui la distanza non conta e che si può cogliere l'anima di un posto anche ascoltando davvero i racconti di chi ci è nato. Il viaggio perfetto? L'emozione della partenza e l'attesa del ritorno. Il mio prossimo viaggio? Con mio figlio, magari su un aeroplanino di carta.